Per la prima volta tre comuni appoggiano un unico progetto di prevenzione, di intervento e di cura del gioco d'azzardo patologico. Faremo appunto un lavoro di prevenzione e di intervento e soprattutto di cura, quindi verranno istituiti per la prima volta dei gruppi terapeutici. Ogni singolo comune avrà due gruppi terapeutici attivi, quindi per 10 persone, quindi con un numero che può arrivare anche a 50 persone, quindi che potranno essere curate. Avremo uno sportello attivo settimanalmente, avremo un numero a cui possono chiamare che sarà attivo 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 tutti i giorni. C'è un portale informatico, magari con l'occasione per dare le coordinate, il portale web www.dipendenzagioco.org e il numero di telefono è 333 95 15 430. Io penso che la strategia è questa, quella di mettere a disposizione dei cittadini un servizio che possa affrontare il problema in maniera radicale, ma soprattutto io ritengo che forse dobbiamo come comune metterci in rete e cominciare a pensare anche a un mondo di solidarietà. Abbiamo coinvolto anche altri comuni, abbiamo fatto una rete, abbiamo pensato di creare una rete fra comuni, perché le richieste di aiuto che sono arrivate al nostro sportello di ascolto e al portale che abbiamo istituito presso il comune erano richieste di aiuto che provenivano non solo dal nostro territorio ma anche dai territori limitrofi e quindi si sono subito dimostrati pronti a raccogliere questa nostra chiamata il comune di San Giovanni Tiatino e Cepagatti per adesso, però noi pensiamo di poter coinvolgere ancora nella rete un numero maggiore di comuni perché il problema è davvero importante.